Allora papà, oggi è l'8 marzo. Cos'è l'8 marzo? È la festa della donna. Una giornata importantissima perché oggi si ricorda un avvenimento bruttissimo che capitò a tante donne tanti anni fa, ma è una cosa brutta, non te lo sto a spiegare. Anche perché durante l'anno gli uomini fanno cose bruttissime alle donne e oggi è la loro giornata e le donne sono superiori agli uomini, mettitelo nella testa. E si vede in questa giornata dove l'uomo fa delle cose umilianti, brutte, perde la propria dignità, si mette il perizoma, si mette l'olio unto, escono dalle torte. Per cosa? Per prendere quanto poi? Quanto? Scusa un attimo. Quanto è che prendo per uscire la torta? No dai ragazzi, la torta muccata è il mutu figlio mio. Un giorno capirai.